In questi giorni prende l'avvio il progetto di rigenerazione del quartiere di Taverna del Ferro, una rigenerazione che include la riqualificazione di 360 alloggi di quello che è oggi uno dei più grandi insediamenti di edilizia residenziale pubblica a Napoli. Domani c'è la consegna formale delle aree all'impresa che realizzerà le nuove costruzioni. Subito dopo la demolizione si comincerà appunto a realizzare il primo intervento di edificazione nell'area che viene liberata dai manufatti. È un progetto molto complesso e molto importante perché prevede interventi coordinati di demolizione, di nuova edificazione, di spostamento, mobilità delle famiglie dai vecchi edifici agli appartamenti nuovi e alla demolizione delle stecche che avverrà progressivamente fino al culmine, al termine del progetto che è nel 2026. È un modello insediativo che ribalta completamente la logica attuale di questo quartiere e questo è stato fortemente voluto dagli abitanti che hanno richiesto fin dal principio di lasciarsi alle spalle la grande dimensione e di incontrare invece un quartiere a misura di abitante con edifici bassi, con unità di vicinato, quindi spazi praticabili che siano l'opposto della attuale configurazione di questo quartiere.